C'è un film che sta facendo molto discutere, è il romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana che ricostruisce la strage di Piazza Fontana dal 1969, del 1969 e poi gli eventi che ne seguirono. Tra i più dolorosi ci fu la morte di Giuseppe Pinelli, precipitato dal quarto piano della questura durante un interrogatorio e poi ci fu l'omicidio del commissario Luigi Calabresi. Noi siamo andati a vedere questo film con le figlie di Pinelli, Silvia e Claudia. Claudia Pinelli che è stato vittima due volte, queste sono parole che ha pronunciato il capo dello Stato a 40 anni dalla sua morte prima di infondati sospetti e poi di un'improvvisa e assurda fine. Sentiamo Giuliano Giubilei. Quante volte Silvia e Claudia Pinelli avranno ripensato a quella sera quando tutto cambiò e non solo per loro. Il padre Giuseppe, l'anarchico, era stato fermato, arrivò a casa la polizia che perquisì armadi e cassetti. Aprirono anche i loro regali di Natale. Avevano 7-8 anni. Il padre non l'hanno più rivisto perché tre giorni dopo morì in questura. Ma che ricordo hanno di lui? Io mi ricordo mio padre, il nostro padre è in cucina, oppure che ci viene a prendere a scuola. Ed era il padre che ci faceva giocare, che ci seguiva nei compiti. Il romanzo di una strage ruota intorno al destino tragico che lega il poliziotto e l'anarchico. È vero che i calabresi e i pinelli avevano un rapporto su sponde opposte ma non nemici. E mi ricordo che prima di Natale aveva regalato a mio padre un libro. E mia mamma disse, beh a questo punto devi fargli qualcosa anche tu. E gli ha anche risposto, bello orgoglio per un anarchico, il regalo di un poliziato. E il mio padre ricambiò con l'antologia di Sporriver che era il suo libro preferito. Ma poi arriva il 12 dicembre. C'è stata una bomba in una banca, sembra che ci siano tanti morti. Un buato e una fiammata hanno letteralmente sconvolto le dita di circa. Il film riapre le ferite e le parole di chi ricorda si fanno più aspe. Tutto il film è incentrato sul commissario Calabresi e sulla sua estranetà nella morte di Pinelli. Io penso che riesce a rendere abbastanza bene quello che era nostro padre. Riesce a ricreare quello che probabilmente è successo in quella stanza. Ma tutto tende ad assolvere il commissario Calabresi. Si può sapere cosa volete da me? Cosa cazzo volete? Che sono tre giorni che mi direi che non lo vado a dire. Oh! Non mi metterle mani a dorso. Nel film che in questo si attiene alla verità giudiziaria, Calabresi non si trova nella stanza dell'interrogatorio quando Pinelli precipita dalla finestra. Ma le figlie fanno un altro ragionamento che rivela un dolore mai dimenticato e che inevitabilmente è destinato ad aprire altre lacerazioni. Poi il fatto che fosse dentro o fosse fuori effettivamente per noi non ha rilevanza a questo punto. Era il più alto in carica quella notte, in grado, di grado insomma, quella notte ed era lui responsabile comunque dell'incolumità di mio padre. La tesi secondo la quale le bombe a Piazza Fontana furono due, le trame dei fascisti e dei servizi segreti, il ruolo di Aldo Moro, la campagna contro Calabresi, l'idea centrale che tutta la nostra storia sia dominata da un grande complotto, sono tanti gli interrogativi e le polemiche che alimenta questo film. Che contiene veramente molte cose. Troppe cose. Perché sia perfettamente comprensibile forse sì. E poi si mischia quella che è la verità storica, quello che è l'invenzione. E quindi alcune volte è difficile riuscire a distinguere i due livelli. La tesi della doppia bomba nella realtà storica, secondo me, non ha sussistenza da nessuna parte, si trova esclusivamente in questo libro a cui si è ispirato il film. Bene, il Tg3 finisce qui, ritorna però a mezzanotte in punto con Linea Notte e poi naturalmente prima serata chi l'ha visto e subito dopo. Fabio Volo, arrivederci.